Su Villa Maria il Comune sapeva. Si possono riassumere così le memorie di Vittorio Basentini, presidente della COP Don Uva Domus. Tale dichiarazioni si leggono nel ricorso al TAR che il patron ha presentato la scorsa settimana, quando oramai le porte di Villa Maria stavano per essere chiuse. Nel novembre del 2021 la cooperativa Don Uva, che gestiva la Casa Albergo per Anziani, trasferì le intere competenze alla neonata Don Uva Domus. E qui c'è l'oggetto del contendere. Secondo Basentini il Comune retto dalla sindaca a Cecilia Francese sapeva che ci sarebbe stata la scissione della prima COP con la nascita della seconda, che avrebbe poi preso le redini di Villa Maria. Il Comune però ha ritenuto Don Uva Domus un soggetto estraneo e dunque la revoca dell'affidamento. Il ricorso al TAR di Basentini, infine, ha congelato il tutto in attesa di ulteriori decisioni. Da capire dove sia la verità, ma su questo si esprimeranno i giudici. In ogni caso e qualsiasi cosa si decida, a pagare le conseguenze peggiori sono gli anziani, i loro familiari e alcuni dipendenti. Per i primi c'è stata la richiesta di trasferimento, ma i secondi non hanno consentito e ad oggi sono sei gli ospiti che resistono strenuamente. Per quanto riguarda i dipendenti, molti sono stati licenziati e qualcuno di loro ha già avuto il coraggio di denunciare la cosa ai nostri microfoni. Il licenziamento in tronco è solo una parte della negativa situazione in cui ormai ex operatori di Villa Maria vivono. All'appello, infatti, mancano varie mensilità. Una situazione tutt'altro che tranquilla in quel dibattipaglia e che è destinata ad avere nuovi capitoli di una storia infinita.